La Meridiana rivede il Seminara un mese dopo, la prima del 2023 tra le mura amiche e la sfida alla Ragazzini Red con l'unico obiettivo di vincere per rientrare nel giro che conta e attendere tempi migliori in trasferta. A cavallo delle festività, doppia Siracusa, prima con la RG senza reti, poi dolorosa sconfitta con l'Accademia 2-1. Egitto, carico dopo il rientro dalla squalifica, subito all'opera nel servire Cordovana ed Enzo Lanza, il quale conclude sull'esterno della rete in avvio di match. E poi la manca di testa da un laterale lungo, Meridiana in costante proposizione offensiva, Ragazzini che allontana ma senza troppa convinzione. A destra, lavoro Maurici, assist per Egitto che si inventa un gol pazzesco ed è 1-0 per la Meridiana, lo scoccare del quarto d'ora. Colpo ad alzare, davvero di altra categoria, Peppe Egitto al gol numero 10 in stagione e il miglior marcatore del gruppo insieme a Cordovana la sblocca così incantando il parterre straordinario anche nel liberarsi di due avversari prima di scoccare la conclusione inventarsi una traiettoria che vale il meritato vantaggio esattamente al quarto d'ora. Sull'1-0 poco dopo fa tutto Enzo Lanza al limite sinistro e fuori di poco e al ventesimo da corner ci prova anche Vitale destro ad effetto anche qui porta non centrata al pari di quanto accade qualche istante dopo su questa manovra accompagnata a sinistra da Iannone e Laguzzi, Vitale confeziona, riceve Cordovana ma non va a bersaglio. E la Ragazzini scampati ai vari pericoli si rialza con una cavalcata di De Re, potente conclusione da applausi Claudio Orendie ma sono segnali di allarmi che suonano in maniera inequivocabile al trentatresimo quindi a due dall'intervallo Massarelli sul calcio di punizione in verticale alto per Longo che tutto solo in area di rigore è libero di colpire e realizzare l'1-1 risultato con il quale matura il parziale dell'half time alla seminara tra Meridiana e Ragazzini. Ricominciano nel secondo tempo i blu guidati da Salvo Grozzo per riprendersi il vantaggio sfumato proprio sui titoli di coda del primo tempo con determinazione inizia Cicala, proseguono Lanza e Cordovana il quale va largo a destra su Maurici cross respinto corto sui piedi di Angelo Vitale che riporta avanti la Meridiana quando il cronometro indica il quinto della ripresa 2-1 per i padroni di casa. Gioia ritrovata e Vitale è al terzo gol personale quest'anno ma quel che più conta è la decisione con cui batte a rete e con l'aiuto del palo interno fa esultare i suoi Pronti al cambio subito dopo questo gol delle 2-1 Nipitella e D'Angelo ai box fuori Maurici ed Enzo Lanza Vitale cerca il bis personale ma il raso terra non frutta guadagni e allora Fuselli per Cicerello che vede in profondità zona metà campo Laguzzi azione che rientra per vie centrali dalle parti di Egitto grandissima palla gestita in mezzo al traffico fino al limite dell'area con freddezza serve Salvo D'Angelo che fa il cecchino e realizza il primo gol in stagione sul fronte del torneo regionale dopo alcune reti nel parallelo provinciale il tutto a 9 dal termine esattamente a un quarto d'ora dall'ingresso in campo ma soprattutto è il centro che ipoteca il ritorno alla vittoria per una meridiana da applausi che può a questo punto amministrare il finale di partita senza particolari sofferenze non è però ancora finita intanto da rivedere la manovra che porta alla 3-1 di D'Angelo toccano palla in molti a partire da questa azione dal basso e intanto subito dopo questo gol della sicurezza altro slot di cambi dalle parti di Carozzo con Vincenzo Tropea convocato per questa prima esperienza con i regionali dopo quella con i provinciali che rileva Cicala e Romano che entra per Cicerello poi ultimo cambio di giornata è quello tra portieri attenzione a Carmelo Lanza che rileva Orendie la ragazzini sciupa una buona occasione con De Rema e bravo qui Lanza a chiudergli lo specchio in uscita mentre dall'altra parte incontenibile Egitto che costruisce l'ennesima chance Nipidella al tiro Libra c'è poi su punizione di Maurici e corta respinta ospite Vitale esalta Libra che evita il 4-1 di nuovo con questo volo a mezza altezza bravi entrambi ma gli applausi finali praticamente a pochi istanti dal recupero vanno a Carmelo Lanza che evita alla ragazzini di rientrare clamorosamente in partita prima Longo poi Caponnetto per entrambi strada sbarrata una doppia risposta che cementa la vittoria e registra il ritorno al successo della Meridiana qui 3-1 al seminario stadio che adesso porterà in scena un derbissimo di città perché sabato alle 15 ci sarà l'esterna con il Real Trinagri a regalare un sabato di certissime emozioni quarti a 31 punti gli avversari Meridiana appena dietro di due e che in trasferta non vince dal 13 novembre insomma tante le aspettative da entrambi i fronti partita da preparare con il massimo della forma e delle idee Grazie 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 Grazie.